Salve a tutti, sono Brucio226458, c'è un motivo molto ben preciso se ho questa miss, questo aspetto, l'ho detto anche con il video del Racchioro Show, grazie Polina. Questi sono Polina ed Elia, scusate l'Apsos Freudiano, ci stiamo dirigendo alla Zombie Walk 2014 di Bologna. Polina, a te la parola, spiega che cos'è la Zombie Walk. La Zombie Walk è una walk, come dice la parola stessa, una passeggiata degli zombie, si salvi chi può, invaderemo tutta Bologna conciati, non conciati, facendo uscire la nostra anima zombie, anche i poliziati, ci saranno dei cacciatori spietati che cercheranno di ucciderci ma siamo già morti, perché tanto li uccideremo subito, prima che ci spareranno, li divoreremo, prima che ci spareranno, ci prenderemo la loro interiore e li succhieremo lentamente. Ceneremo a Bologna insomma. Su questo non c'è dubbio. Bene, per il momento Polina ha detto esattamente di cosa si tratta a Zombie Walk di Bologna, spero di potervi far vedere anche qualche video del posto, anche del durante, perché avremo anche una cameraman. Per il momento vi auguro buona boccanisse e vi daremo poi aggiornamenti. Ci uccido.